Buongiorno, sono Maria Teresa Fino, consulente della Remax della Polare. Oggi siamo a Turi e vi presento un ampio quadrivani con giardino condominiale e posto auto condominiale. Seguitemi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Come avete visto, questo ampio quadrivani si predispone a una bella personalizzazione a vostro gradimento. Contattatemi!